Oltre 3 milioni di euro per la messa in sicurezza della riserva naturale che si estende da Ostia a Fregene è quanto prevede il piano antincendi boschivi valido fino al 2022 adottato dal Comune di Roma che con una delibera ha dato autorizzazione a trasmettere il programma al Ministero dell'Ambiente. Fanno parte della riserva del litorale romano, l'oasi di Castel di Guido, la pineta di Coccia di Morto, la tenuta di Procoglio, quella di Maccarese, le dune di Capocotta e anche le pineta di Castelfusano e Acque Rosse oltre alle aree arqueologiche di Ostia Antica e dei porti imperiali di Claudio Traiano. L'individuazione degli obiettivi prioritari da difendere rappresenta il primo punto della strategia di lotta contro gli incendi si legge in una nota di Roma Capitale. Determinanti sono anche la prevenzione, i sistemi di avvistamento, l'acquisto e la manutenzione di macchinari, l'attività formativa e informativa. Il clima della riserva esclude quasi totalmente la possibilità di autocombustione. Da ciò ne consegue che l'alta percentuale di roghi sia dovuta a cause di natura dolosa, conclude il comunicato. Intanto il presidente nazionale di Equitalia Solidale, Pier Giorgio Benvenuti, si oppone all'ipotesi di privatizzare la manutenzione del verde. Da tempo, dichiara, gli alberi di Roma da risorse si sono trasformati in un pericolo quotidiano per la caduta di rami, ma affidarli alle cure dei privati non è la soluzione adeguata. Parliamo pur sempre di un bene pubblico? Come al solito stiamo ragionando delle intenzioni, non avendo ancora a disposizione un programma preciso, ma solo un'esternazione da parte dell'assessorato competente. Il voler scaricare le responsabilità anche in materia di alberi dimostra assoluta incapacità da parte dell'attuale amministrazione a guida della sindaca Virginia Raggi. Come associazione saremo nettamente contrari ad ogni forma di privatizzazione del verde, che invece dovrebbe essere curato e valorizzato come un bene di tutti i cittadini. A concluso, benvenuti.